Se gli eredi di questo pittore volessero vendere qualche cosa di questo genere, qualora però sia di qualche merito, io la comprerei volentieri. E così, se si potesse ritrovare in Bergamo, qualche buona bozzetto ne farei volentieri l'acquisto, qui a Pietroburgo, ne ho messi insieme qualche buona porzione e dei belli. È il passaggio di una lettera scritta da Quarenghi all'amico e collezionista bergamasco Giuseppe Beltramelli. Il pittore in questione è Giuseppe Antonio Orelli, che in quel momento era già defunto da parecchi anni. Il signor Giacomo Quarenghi, architetto al servizio di questa sovrana, cioè Caterina II, desidera di avere un vostro disegno per onorare la copiosissima sua raccolta, ad accrescere la quale non hanno sdegnato di recar tributi li più accreditati disegnatori dei nostri giorni. Egli è di coloro che vogliono aver di tutti per esaminare, confrontare, distinguere le varie maniere che della ricchezza dell'arte fanno testimonianza. Il Quarenghi ha sentito decantare il vostro sommo merito e non è pago se non ha qualche cosa dalle vostre mani. La seconda lettera, stavolta non scrive Quarenghi come si capisce, ma uno scenografo da Pietroburgo, Pietro Gonzaga, scrive a un collega, Francesco Fontanesi. Sia la prima che la seconda lettera si trovano nel volume del 1988 di Vanni Zanella, e sono state poi riprese nel 1995 da Pervalediano Angelini per il suo importante contributo sul collezionismo di Quarenghi. Le ho volute citare insieme come premessa la nostra storia di oggi. Queste due lettere, fra le molte che potremmo citare, chiamare in causa, attestano che Quarenghi aveva una collezione d'arte che si proponeva e guardava verso i dipinti con occhi da intendente, come oggi si direbbe con occhi di conoscitore, e che dunque aveva un gusto preciso, un orientamento estetico preciso. Cosa del resto che ci saremmo attesi, se non altro, dati i suoi inizi da pittori, e più in generale per le sue qualità pittoriche, per le qualità pittoriche dei suoi disegni. Le due lettere, infine, attestano che Quarenghi conosceva molto bene da vicino i meccanismi del mercato dell'arte. Angelini non si ferma qui, ma individua alcune categorie dei beni collezionati da Quarenghi. L'abbiamo già visti. Libri, medaglie, stampe, disegni e naturalmente quadri. Di autori antichi, da Paolo Veronese, il Veronese donato a Quarenghi dal senatore di Roma Bondio Rezzonica, fino a Carlo Maratti, e ancor più di autori contemporanei. Alcuni meno noti, o persino oscuri. Altri invece di primo piano. Fanno parte di questa seconda categoria, cioè degli autori di primo piano, personalità come Angelica Kaufman, Canova, Canaletto, Tiepolo, Voler, Iberroper, e infine Giuseppe Cades, di cui si parlerà in qualche modo domani, con un presepe che già Maria Teresa Caracciolo aveva identificato con il pezzo confluito all'Accademia Carrara di Bergamo. Angeline, inoltre, stabilisce una relazione fra il collezionismo di Quarenghi e il parallelo impegno nel progettare e allestire gallerie di quadri di palazzi nobiliari. Quarenghi lavorò in varie gallerie aristocratiche a Moschia e a Pietroburgo. Il culmine fu raggiunto con lo zare Alessandro I nella galleria del piccolo Hermitage. Ed è esattamente il disegno che vi mostro qui. Quarenghi pensava a tutto, probabilmente anche alle cornici, nelle funzioni. Queste e altre tavole su misura possono dunque accustarsi in qualche modo ai rendering dei moderni museografi e museologi. Ecco i nostri prossimi 25 minuti. Il cuore dell'intervento sono tre casi concreti del secondo settecento romano. Giuseppe Sardeghi, vendere e affittare un bloc al re di pittorici. Il secondo caso è quello come riferimento base, Gavin Hamilton e Francesco Panini. La loro attività per Shelburne House, poi Lansdowne House. E infine il terzo caso è su James Dano, dal salotto al negozio di quadri. Come vedete sono un po' scalati perché i primi due sono già noti, il terzo invece è inedito. I tre casi vogliono stabilire un piano di intesa comune. Sono convinto che riescono a farci raggiungere l'obiettivo di oggi, che è capire meglio se, quanto Roma, l'ambiente romano del settimo e l'ottavo decennio contribuirono a plasmare l'educazione di Quarenghi come pittore, architetto e collezionista. Prima di entrare nel vivo colgo l'occasione per ringraziare l'organizzatore di questo convegno, in particolare l'amico e collega Tommaso Manfredi. E' stato lui, Tommaso, il responsabile di questo mio intervento, a spingere in questa direzione, cioè verso un intervento di contesto sul mercato dell'arte romano dell'epoca. Almeno Danila Mallory in poi, Sardi è una stella fissa del Settecento romano. Ufficialmente egli era un capomastro muratore, vale a dire un capocantiere. D'altro canto, in diverse circostanze, Sardi ricoprì il ruolo dell'architetto. Fu perciò a capo di fabbriche importanti, dalla facciata di Santa Maria in Cosmidin, che possiamo ormai vedere solo attraverso, con gli occhi, di Giuseppe Vasi, alla chiesa dei Santi Quaranta e San Pasquale di Bailon in Trastevere. Vediamo qui l'esterno, la facciata e l'interno. Olivier Michel, cui va il mio ricordo personale oggi, ha schiuso la strada a una visione alternativa di Giuseppe Sardi. Attraverso il genero paoloanesi, Miscello ha inserito Sardi nel vivo del mondo della pittura. Armato di tale indicazione, chi vi parla ha ricostruito la figura di mercante d'arte. Sardi trattava principalmente quadri e lavorava su larga scala, grazie a uno stock di oltre 1700 pezzi. Nella fase di approvvigionamento faceva ampia leva sulla famiglia. Da paoloanesi, suo genero, l'abbiamo visto, ai propri stessi figli, Luca e Marco Antonio Sardi. Un pittore molto raro, Marco Antonio. Solo adesso si sta passando dalla fase delle citazioni d'archivio ai quadri, potremmo dire, in carne ed ossa, cioè materiale. Alle mie spalle riproduco un'immagine presa dalla Fondazione Zeri. E qui un secondo pezzo che è passato qualche mese fa sul mercato antiquario di New York. L'impostazione particolare di questo stock, Luigi Spezzaferro lo avrebbe chiamato, lo chiamava anzi, vendere pittura al metro, fa rima con mancanza di pezzi di alto livello. È importante questa caratteristica, ai fini di quello che sto per dirvi. Giuseppe Sardi aveva spirito d'impresa. Collegò in un solo circolo organico e virtuoso le sue varie attività. Quando capitava, dunque, vendeva pezzo su pezzo, uno alla volta. Ma la vera specialità, quella da cui traeva maggiori profitti, consisteva nel vendere o affittare interi arredi pittorici un bloc. Lo dico meglio. Sardi, dall'oggi al domani, poteva fornire partite di uno, dieci, all'occorrenza anche cento quadri alla volta. Roma non era nuova a questo genere di cose. Natalia Gozzano l'ha dimostrato nel suo libro su Lorenzo Onofrio Colonna, a proposito di un quadro di Giovanni Francesco Albani. Sardi non aveva capolavori, come fra l'altro un quadro così importante come era quello di Albani, a giudicare da quanto venne pagato per una sola notte di Capodanno, stanti documenti di Gozzano. I suoi obiettivi erano, perciò almeno in parte, differenti. Spesso mirava verso esponenti particolari del ceto elevato, del ceto dirigente, che sebbene ostili per educazione e magari per portafoglio, a qualsiasi esborso di denaro liquido, soprattutto in arte, vedevano in Sardi la soluzione rapida ed efficace ad ogni problema di arredamento, di rappresentanza. Il discorso calza a pennellio per Giuseppe Garampi e Maria Pia Donato ha in parte anche spiegato prima come mai le cose funzionassero in questo modo. Qui vediamo Garampi ormai cardinale, ma è una dignità che avrebbe raggiunto molto più tardi, solo nel 1785, cioè dopo i fatti che stiamo per raccontare. I fatti dicono che Garampi era giunto a Roma nel 1746 da Rimini, era un cadetto di una nobile famiglia riminese. Ben presto si era messo in luce come studioso, come erudito, e agli occhi di un papa come Benedetto XIV Lambertini era diventato l'uomo giusto al momento giusto. Per cui nel 19 luglio del 1751 Garampi fu nominato prefetto degli archivi vaticani ed improvviso, in quel preciso momento, si trovò dinanzi a un'esigenza di rappresentanza a dover dare decoro alla propria dimora romana. Ed eccolo qui, per questo motivo, rivolgersi nello stesso 1751 a Sardi che gli diede in affitto in due rate 46 quadri per un corrispettivo di 84 scudi. Torniamo alla vocazione imprenditoriale di Sardi. Almeno altrettanto volontieri, egli offriva i propri servigi di decoratore e regatore a proprietari degli immobili che egli stesso aveva appena rimodernato come capomastro. Un buon esempio è rappresentato dalla locanda del Monte d'Oro in piazza di Spagna dove Sardi aveva lavorato su commissione dei padri trinitari spagnoli che erano i proprietari formalmente. Vorrei solo aggiungere che per tutto il Settecento questa locanda fu ben nota ai viaggiatori inglesi, britannici per meglio dire, tant'è che negli anni Sessanta passò in gestione a un ex sarto irlandese. Cosa ci fa capire Giuseppe Sardi? Ci fa capire almeno un paio di cose. Una, quanto il mestiere dell'architetto fosse sfaccettato. Due, Sardi ci prende per mano e ci porta in un labirinto sotterraneo quasi sempre oscuro vogliamo dirlo a tratti sordido meschino che è costruito sull'interagire fra arte, mercato, architettura edilizia, legami familiari e antropologia. Attenzione al decollo perché dalla terza o dalla seconda classe vogliamo adesso in prima classe. Parlo del progetto per la Galleria d'Arte di Lansdown House, una vicenda ben studiata nel 1970 da Danmi Stillman su Art Bulletin e l'anno scorso vi ha trovato tornata sopra Elizabeth Angelicussis in una mostra al Seoul Museum di Londra. L'idea di una galleria venne al proprietario del palazzo, l'irlandese William Petty, secondo conte di Shelburne, che qui lo vediamo nel ritratto di Joshua Reynolds nel 1766. Shelburne è noto soprattutto come uomo politico, negli anni Ottanta sarebbe divenuto primo ministro, nel 1784, marchese di Lansdowne, di cui appunto il passaggio da Shelburne House a Lansdowne House. Negli anni Sessanta Shelburne aveva comprato dal conte di Butte una proprietà e una casa su Berkeley Square a Londra. Un progetto di Robert Adam che era ancora in costruzione. Shelburne aveva subito chiesto ad Adam di realizzare una nuova ala verso Nord-Ovest. Qui la vediamo subito proprio come un'addizione vera e propria. Ecco il progetto di Adam in pianta. Ripeto, siamo nel 1766-1767. Due corpi ottagonali uniti a un terzo rettangolare. Questa è l'addizione di cui parlo e aveva in quel momento una funzione precisa che era quella di biblioteca. Ma nel 1771 le cose di colpo cambiarono. Adam cadde in disgrazia presso Shelburne e Shelburne stesso subì un grave lutto, la morte della moglie. Direte voi che c'entra? C'entra perché in quel momento forse anche un po' per cancellare questa cosa decise di venire in Italia. Arrivò a Roma in agosto e trascorse complessivamente in Italia solo cinque mesi come ogni buon uomo politico aveva i minuti contati, le settimane contate, quindi dopo cinque mesi tornò subito in Inghilterra. Il periodo passato a Roma tuttavia lo condizionò moltissimo, lo rapì letteralmente. Si diede subito da fare per acquistare oggetti romani e per farlo prese contatti già durante il Grand Tour con una personalità molto nota chiunque studi Roma in questo periodo, va a dire Gavin Hamilton e lo vediamo qui nel disegno di Osias Humphrey del 78 a sinistra in un dipinto di Archibald Skirving del 1788. Per il profilo di Hamilton basta rifarsi alla sigla di David Irwin rimane ancora oggi secondo me molto valida Archaeologist Painter and Dealer tre cose diverse tutte e tre concatenate. Nel caso di Sherburn Hamilton non si limitò a vendere singoli oggetti nel 71-72 propose di sfruttare il guscio murario che abbiamo appena visto in pianta che era stato già fatto realizzato in qualche maniera da Robert Adam per realizzare al suo interno anziché una biblioteca una galleria d'arte e quindi una conversione di funzione d'uso. Inoltre Hamilton promise di procurare al nobiluomo le opere d'arte dell'interno a cominciare da sculture e rilievi antichi. Hamilton come dicevamo era diverse cose in una ma non aveva capacità o tempo per essere anche architetto e quindi si rivolse a Francesco Panini. Francesco Panini figlio del noto vedutista Giovanni Paolo è una figura che è stata studiata di recente da Maria Celeste Cola basti dire qui che era noto soprattutto come disegnatore di architettura piuttosto come architetto vero e proprio come dimostra fra l'altro il foglio oggi al Ghetti che raffigura la galleria farnese qui alle mie spalle. Panini su richiesta di Hamilton fornì nel 1772 un progetto per la sculpture gallery di Lansdown House quello che serviva quello che Hamilton proponeva a Shelburne eccolo qui quindi siamo al secondo progetto dopo il primo che ho fatto vedere di Robert Adam ed è anche il primo progetto dove si coglie che effettivamente doveva essere una galleria d'arte l'immagine che qui vediamo mostra la parete verso il giardino si possono vedere bene le due statue a figura intera e alcuni busti la foto attenzione è un po' tagliata quindi vediamo solamente quattro busti in realtà ve ne sono altri due alle estremità totale quindi sei busti raffigurati qui ed ecco un secondo foglio sempre di Panini in alto l'esploso del soffitto in basso la parete verso il lato cieco del palazzo quindi senza finestre possiamo vedere sei busti due statue più grandi e quattro un poco più piccolo mi sembra che è evidente il debito verso la cultura romana in particolare verso la galleria farnese questa idea di Panini doveva andare d'accordo con quanto pattuito fra Hamilton e Shelburne nel giro di quattro anni e per circa 6.000 sterline Hamilton promise che avrebbe fornito 16 statue grandi 12 busti 12 bassorilievi e più 11 dipinti storici e 4 paesaggi con scene della guerra di Troia non ha tanta importanza il fatto che alla fine questo progetto non sarebbe stato realizzato il punto è che è un altro Francesco Panini era e rimase sostanzialmente un architetto di carta non di pietre di mattoni in nulla paragonabile dunque a Robert Adam e non a caso lo ripeto più tardi altri progetti si sarebbero succeduti Shelburne Lansdowne avrebbe chiesto altri progetti ad altri architetti a partire da Clarisseau ma questo non faceva nessun problema per Hamilton perché il suo scopo principale e qui sarei dire l'unico consisteva nel vendere opere d'arte negli anni successivi infatti rifornì Shelburne con pezzi veramente notevoli per lo più scavati da Villa Adriana li vediamo non tutti solamente piccoli esempi da destra a sinistra l'Hermes in passato talora scambiato per Cincinnato oggi a Copenhagen l'Amazon è ferita oggi al Metropolitan e ancora il bus di Atene a Los Angeles County Museum of Art in sintesi ci troviamo dinanzi a un progetto di architettura certo ma funzionale direi esclusivamente a vendere opere la mano fu dunque quella di Panini la mano del progettista ma la mente fu quella di Hamilton tipica di un mercante terzo caso James Dano tuttora quello di Dano è un profilo abbastanza oscuro quindi in questo caso vorrei spendere qualche secondo per riassumerne le coordinate principali per la parte britannica studiate soprattutto da Nicola Figges siamo dinanzi a un pittore nato a Londra intorno al 1745 ammesso il 28 febbraio del 1769 nella Royal Academy School qui ebbe già modo di incontrare Roma sebbene ancora una Roma in inglese perché i suoi maestri alla Royal Academy furono un pittore romano Andrea Casali e un pittore che aveva avuto americano di origine ma di educazione romano a quel momento cioè Benjamin West particolarmente importante sembra essere stato West Darno entrò a far parte dello studio del pittore americano e vi realizzò copie il successo arrivò due anni dopo come ricorda Nicola Figges nel 71 Darno ricevette un premio di 30 guinee dalla Society of Arts e più tardi l'anno dopo un altro premio per il miglior dipinto di storia nel giugno del 74 Darno si trasferì a Roma e vi sarebbe rimasto 21 anni fino alla morte come pittore egli emerse negli anni 80 grazie alla commissione per Lord Bristol di due quadri di soggetto medico e poi con un'altra commissione anche qui di una coppia di quadri stavolta però di soggetto completamente diverso perché è un soggetto shakespeariano i due quadri erano destinati alla galleria Paul Mall a Londra che è l'incisore ed editore John Boydell voleva dedicare nel 1786 appunto a William Shakespeare il quadro che vediamo traduce in pittura una scena delle allegri comani di Windsor e ha come soggetto quindi Falstaff è databile al 1786 e si trova ancora oggi si trova oggi al museo al Sound Museum di Londra ci è ora permesso aggiungere tasselli importanti su Dano grazie a dei nuovi documenti che ho avuto modo di rinvenire tempo fa durante la mia tesi di dottorato e che adesso rendo pubblici ecco la pagina introduttiva l'inventario dei beni in particolare ci dice molte cose per esempio che Dano era un mercante d'arte professionista notizia inedita attenzione qui era una notizia inedita perché perché noi sapevamo che Dano come molti altri abbiamo già citato Hamilton che Dano diceva era un mercante ovvero che comprava e vendeva opere d'arte altrui ecco il suo colpo migliore già lo conoscevamo la cosiddetta Madonna di San Girolamo di Parmigianino che Dano scopò nel 1790 nella cappella Bufalini a città di Castello e che attraverso Darno passò nel 1790 stesso in Inghilterra fino a terminare la parabola dove si trova oggi cioè nella National Gallery of Art di Londra cinque anni dopo aver stretto questo affare dopo aver concluso questo affare l'inventario ci dice che Darno aveva fatto un ulteriore passo in avanti o che è lo stesso per me che aveva un altro modo di ragionare che era diventato titolare di un negozium tabularum pictarum vale a dire era diventato un negoziante di quadri aveva un negozio di quadri ecco un mercante professionista entriamo ora all'interno di questo negozio e capiamo qualcosa di più circa 300 dipinti in alcuni casi antichi e l'inventario uscita in particolare diversi veneti da Bonifacio da Bonifacio veronese a Jacopo Bassano a Tiziano la maggior parte dei quadri era comunque contemporanei era quadri di contemporanei nessuna sorpresa che una parte dei quadri fossero stati eseguiti da Darno stesso la pubblicazione dell'inventario in questo senso rappresenterà la base di partenza per capire qualche cosa di più del suo catalogo che come avrete capito è abbastanza scarso è un catalogo oramai necessario come giustamente afferma Stefano Grandesso che è il principale studioso della parte di Darno in Italia Nicola Fighis per la parte britannica Grandesso per la parte italiana romana soprattutto una parte dei quadri di Darno erano copie anche qui nulla di strano la Fighis vi ha dedicato un intero saggio e il saggio verte soprattutto in particolare su questa grande copia della trasfigurazione di Raffaello che Darno realizzò esattamente in scala 1 a 1 e che si trova oggi a Dublino quindi abbiamo un quadro di oltre 4 metri 4 metri 11 centimetri e che oggi la copia naturalmente si trova nella National Gallery of Ireland di Dublino sappiamo dalle fonti che la copia da Raffaello fu eseguita negli anni 70 cioè non appena Darno era giunto a Roma e sappiamo che la misa in vendita per mille sterline è una cifra molto elevata nel 1783 scusatemi nel 1783 la copia fu venduta a Lord Bristol lo stesso che aveva comprato che comprò i soggetti omerici e doveva rappresentare il core painting cioè il quadro un quadro fondamentale della galleria di Lord Bristol nella contea di Derry era una galleria didattica questo è interessante perché siamo ancora prima naturalmente di Napoleone però già questa galleria si pone come galleria didattica quindi siamo prima per esempio della galleria dei fratelli Cacò a sinistra in un'ala vi era la galleria degli italiani invece nell'altra ala l'opposto vi era la galleria dei soggetti nordici e se doveva servire a quei pittori inglesi britannici squattrinati che non avevano i soldi per fare il tour l'inventario dei beni fa chiaro riferimento all'impresa cioè della copia della trasfigurazione nell'otto numero 86 si riferisce chiaramente alla trasfigurazione di Raffaele in un primo tempo fu considerato un disegno antico con cornice dorata ma in un secondo tempo forse potete vederlo qui in qualche maniera questo primo riferimento fu cancellato e si precisò che si trattava di un abbozzo a olio in chiaro scuro sopra carta sono dell'avviso che questa correzione si debba a Christopher Hudson Darno scusatemi Hudson conosceva bene e da vicino i lavori di Darno supervisionò la confezione del suo inventario e farò qualche precisazione in questa direzione fra pochi minuti pochi secondi Darno possedeva e vendeva inoltre copie in gesso da famosi gruppi gruppi o piuttosto statue o piuttosto rilievi classici il discorso vale per esempio per questo sarcofago dei musei capitolini raffigurante Endimione qui naturalmente ve ne apprezziamo l'originale un secondo modello si trovava sempre al capitolino famoso gladiatore morente queste e altre copie in gesso a scale ridotto di nuovo chiamano in causa Christopher Hudson nell'inventario di Hudson chi vi parla ha trovato merce del tutto paragonabile a questa qui non basta Hudson e Darno li ripeto si conoscevano si frequentavano erano amici e non basta ancora Hudson fu l'esecutore testamentario di Darno troviamo per questo la firma in molte zone dell'inventario l'ho scritto già qualche tempo fa in un mio articolo dedicato a Hudson che Tommaso ha richiamato prima lo ripeto adesso ripercorrere le fila di copie in gesso del Tarto Settecento da famosi pezzi antichi riconoscerne poi l'autografia attraverso i normali strumenti della disciplina storico-artistica è una ricerca ancora da fare una ricerca sensata direi se non altro sul piano della tutela come del resto a suo tempo fu sensata la ricerca di Algardi Bernini o Duchenois restauratori restauratori naturalmente dall'antico i documenti come per esempio gli inventari di Carlo Maratti del suo allievo Andrea Procaccini fino appunto all'inventario di Hudson e questo di Darno provano che almeno una parte delle copie d'autore portavano portano magari la firma di grandi scultori di età neoclassica scultori di primo piano attenzione perciò a etichettarle a liquidarle troppo sbrigativamente come frutto dell'industria del Grand Tour ammesso e non concesso che si possa parlare di industria in un momento in cui siamo ancora lontani a Roma dalla rivoluzione industriale torniamo adesso al negozio di Darno e diamo ancora qualche dettaglio che è utile alla nostra riflessione finale il negozio si trovava in Palazzo Torlonia su Via del Corso dinanzi alla chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite Darno l'aveva preso in affitto da Giovanni Tarlonia allora Duca di Bracciano il negozio si pone perciò come una delle molti retici del decollo del Banco Tarlonia che venne fondato esattamente lì nello stesso blocco l'8 aprile del 1795 siamo negli stessi mesi pochi mesi dopo Darno morirà è un dato che ritengo importante sia per l'impostazione generale dell'azienda di Darno sia per la provenienza di almeno una parte dei contenuti pensate solamente a come funzioni un banco si guardi per esempio la provenienza della merce parte dei quadri in particolare i quadri antichi erano reperiti sul territorio ma parte dei contemporanei era prodotta in casa ovvero dallo stesso Darno e dei suoi allievi diretti ed ecco perché troviamo all'interno dell'inventario diversi cavalletti da pittore ma attenzione Darno conservava nel negozio anche dipinti fatti da altri contemporanei che appartenevano ad altri non tutti i dipinti nel negozio di Darno erano di proprietà di Darno non so dirvelo più chiaramente di così scusatemi ho saltato una foto questa è un'altra slide sulla provenienza ed eccoci qui è quello che volevo dirle questo riferimento che qui vedete ingrandito parecchie volte ovviamente capite si tratta di un manoscritto si vuol dire tradotto verso la fine non già Matthew ma Mon Sue Moore vale a dire The English Claude lo scozzese Jacob Moore lo possiamo qui apprezzare nell'autoritratto del 1783 agli uffizi Moore morì era morto il primo ottobre del 1783 per via di una febbre improvvisa due anni dopo l'inventario di Darno aggiunge un'ulteriore tasselle in un puzzle abbastanza complicato quello della sua successione reso ancora più complicato dal fatto che il nipote d'erede si chiamava a sua volta Jacob Moore non sono qui per sciogliere questo nodo dobbiamo in qualche maniera restare vicini a Quarenghi vedremo fra pochi secondi come il negozio di Darno riesca comunque a cambiare anche il profilo di questo pittore di Moore e lo completi prima di fare questo vorrei aggiungere un secondo nome perché è essenziale un altro riferimento che ci viene dall'inventario eccolo alle mie spalle questa volta il nome è Naylor la marca Naylor il monogramma Naylor contrassegnava contrassegnavano il retro di un piccolo in questo caso di un piccolo quadro dipinto in tavola raffigurante due figure e un puttino con cornice dorata intagliata ma lo stesso capita con 25 altri quadri lo ripeto anche qui circa 25 altri dipinti nell'inventario di Darno erano contrassegnate in questo modo di Naylor proprio come abbiamo visto con Jacob Moore ora tutto questo ci fa suonare un campanello dietro questa semplice sigla si scelano due persone davvero importanti chiave nell'ultimo decennio del secolo a Roma credo infatti che si debbano riconoscere i due hair Naylor lo scrittore Francis Hair Naylor e sua moglie Georgiana nata Shipley la coppia fu in Italia per circa dieci anni 1787 1797 e in Italia l'Italia fu la culla The Cradle per i loro quattro figli fra cui naturalmente Francis Junior ritratto nel 1788 1789 Joshua Reynolds in uno dei quadri più famosi della pittura inglese l'ultimo a destra Georgiana la moglie qui al centro non era solo una moglie era anche una pittrice aveva studiato proprio con Reynolds e in questo duplice ruolo si inserì moglie di uno scrittore pittrice del suo si inserì nella buona società romana e qui ci avviciniamo di nuovo non voglio dire pericolosamente a Maria Pia Donato dal 1791 ogni giovedì tenne un salotto teneva un salotto un salotto di conversazioni e vi convenivano personalità importanti il principe Augusto Lady Cowper Antonio Canova Lady Hutton e guardate un po' anche il nostro James Dono così dicono i documenti a quanto sembra i quadri che si trovavano nel negozio di Dono erano proprietà del marito Francis Hare Naylor riassumo prima di rilanciare chiude il tema di fondo è questo la provenienza dei quadri del negozio di James Dono possiamo affermare che una percentuale rimarchevole intorno al 15% era di proprietà altrui in questa sede ho fatto i nomi e i cognomi di due proprietari Jacob Moore Francis Hare Naylor marito di Georgiana Hare Naylor questo determina significative novità sia per l'uno che per gli altri per Jacob Moore che viene generalmente descritto dai documenti dalle fonti come una persona di scarse capacità mercantili adesso capiamo perché delegava ad altri la vendita ed anche per la coppia degli Hare Naylor quattro anni prima nel 91 Christopher Hewinson in una lettera aveva descritto Georgiana come una dei sembra di avere qui la ecco Georgiana Hare Naylor falls among the practical dilettanti who presume to guide nostri benefattori ignoranti una tastemaker per utilizzare l'addizione per me molto felice valida di Brinsley Ford una tastemaker una persona che plasmava il gusto che lavorava sui benefattori ignoranti sui grand tourist grazie a vari strumenti ma che esattamente per questo doveva poi evitare ogni possibile conflitto di interessi non potevi dire male di alcuni e bene di altri se poi proponevi la tua merce ecco perché c'era il deposito dei suoi quadri nel negozio siamo alle conclusioni i casi affrontati sono abbastanza diversi direi intenzionalmente diversi delineano un piano di fondo comune comune anche a Quarenghi come avete capito sono andato avanti per assonanze per consonanze per cercare di creare un contesto ha fatto piacere per esempio risentire più volte il nome di Hamilton ed è chiaro che questa è una delle consonanze il primo il ruolo di Roma a questa altezza prima conclusione spesso definita Roma col termine di miniera una definizione banale e in definitiva errata perché delinea uno scenario segnato da un bene esauribile cambiando tempo è la prospettiva di oggi di quelle persone che oggi pensano ai beni culturali italiani come il petrolio d'Italia le cose stavano in modo molto diverso Roma era nel settecento un vero centro di scambio di opere d'arte che obbediva a regole e strutture precise e determinate non importa quanto liquide se dunque teniamo al linguaggio figurata pensiamolo piuttosto come un polmone di opere d'arte e anche di energie artistiche che attrae dall'esterno e che successivamente riemette manda fuori due Roma fu un modello branco di prova imprenditoriale chi veniva a Roma non soltanto si perfezionava sul piano figurativo ma imparava anche a muoversi in un sistema dell'arte molto competitivo attraverso strategie vi è riuscito a multiple spesso interdipendenti Roma offriva perciò modelli su cosa fare e anche modelli di come farlo come metterlo in pratica come raggiungere gli obiettivi tre la circolarità della concezione di fare arte ogni mestiere ogni ramo dell'attività diventa funzionale all'altro ogni faccia è funzionale all'altra faccia gli ultimi anni sono stati il trionfo dell'interdisciplinarietà dell'approccio mi secca a dire che piuttosto è stato il trionfo quasi sempre della multidisciplinarietà tant'è quando si studia a Roma l'arte romana di questo periodo fare questo va ben oltre una generica petizione di metodo diventa autentica sostanza storica solo in questo modo pensando su più livelli da più prospettive si riescono a capire i processi soltanto così i protagonisti passano dalle due alle tre dimensioni per me come avrete capito e come questo convegno dimostra il discorso vale anche per Quarenghi grazie allora ringraziamo molto Cohen di questa sua bella relazione che in realtà ci fa conoscere meglio Roma nel settecento e comunque tutti questi documenti questi nomi eccetera che approfondiscono ancora meglio il quadro della città al tempo appunto in corrispondenza con Quarenghi naturalmente sono cose che vanno lette perché sono talmente intense compresi i documenti che può sfuggire qualche particolare comunque era molto interessante e la ringraziamo cioè ti ringrazio dunque domani ci vediamo alle nove qui alle nove e un quarto penso nove e un quarto e quindi per ora credo che non possiamo più fare discussioni perché è molto tardi siamo andati molto avanti nel tempo quindi per ora sciogliamo il convegno grazie grazie